Si è spento ieri mattina nella sua abitazione a San Zenone degli Ezzelini l'artista, scultore e pittore Pier Giorgio Rebesco. Apprezzato in tutto il mondo, le sue opere, anche monumentali, si trovano in Canada, Stati Uniti, Messico, Los Angeles, Victoria, Svizzera, Austria, Germania e Giappone. Sensibile ed attento, ha dimostrato le sue dote fin da giovane, con un padre anche gli artista. La cerimonia funebre si terrà lunedì alle 10.30 alla chiesa parrocchiale di San Zenone. Anche l'amministrazione comunale sta decidendo di rendere omaggio al grande artista. Grazie.